Ero a New York, ho questo mio amico che mi dice a un certo punto guarda Eva, io devo andare a una festa, io ho detto posso venire anch'io? No, è una festa solo per gay, trans, cioè una roba in un locale particolare io ho detto ma perché? No, le donne non le fanno entrare Viene questa idea, vestiamoti da trans, ed entrai in questo locale dove ho visto cose che voi umani citando un film non potete immaginare E quindi che ha visto? Si sentivano molto più tranquilli nell'accoppiarsi nei divanetti come te lo devo dire E aspetta, concludo il trauma della serata che vado in bagno e due ragazzi pensando che io fossi, ci hanno anche provato uno a un certo punto e io ho cominciato a dire urlando spaventata c'ho la patata perché ho avuto paura tipo la stavo per far vedere, c'ho la patata, c'ho la patata, c'ho la patata No, no, no